ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del mercoledì di sensei awakening inizia la settimana in rosa che no non è un inno al femminismo è riferito semplicemente alla settimana dove in reit up per le nostre estrazioni a tema saranno presenti tutte le versioni di andromeda di shun al momento disponibile quindi la sua versione nebula nebula shun la sua versione ade e la sua versione con l'armatura divina sarà in reit up e credo anche la versione a standard da quello da quello che capisco e da quello che mi pare di leggere fortunatamente non c'è anche non c'è la versione del live action di netflix sapete che ho appena detto della settimana in rosa ecco effettivamente netflix con shun ci aveva provato a trasformarlo in 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 una gentil donzella c'era anche riuscita però noi da buoni amanti della serie da buoni puristi preferiamo le versioni di shun che stiamo vedendo in questo momento anche perché live action di netflix vi dico la verità è una roba che vorrei levarmi dalla testa nel più breve tempo possibile e non l'ho neanche visto tutto pensate voi inizia stagione 12 inizia la stazione va bene barde ce la puoi fare modalità luca giurato disattivata inizia la stagione 12 dell'emporio misterioso ricarica cinque giorni ricarica scioppa per cinque giorni e ottieni un tom abilità gratis che gratis scusate so che questa cosa dovrei esserci abituato perché sarà già la trecentesima volta in un anno che ce la propinquano ma tutte le volte mi scappa da ridere a vedere non so se un errore di traduzione è proprio loro che ci provano credo più loro che ci provano a dirla tutta risveglio dell'armatura di scaglia di chrysa ore che devo dire la verità io ho detto già un'occhiatina veloce stamattina mi sono quasi pentito di aver buttato via tutte le 120 copie di chrysa ore che avevo trovato fino a questo momento perché sembra sembra essere diventato veramente un debuffer molto 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 carino capitolo 39 della storia principale dopo la manutenzione del 13 gennaio ovvero quella di oggi al momento mi risulta non ancora disponibile ma è normale perché in genere questo questo genere di eventi questo genere di aggiornamenti sarebbe meglio dire quelli alla storia e alle missioni secondarie diventano attivi solo nel pomeriggio dopo l'aggiornamento modalità doppio ban partire da immortal 3 ad arrivarci periodo dopo della manutenzione il 13 1 quindi presumo letta così sembrerebbe che diventi definitivo poi comunque andrò a leggere i soliti bot risposta anzi leggiamoli subito i bot risposta sulla pagina facebook tanto vedo che sono solo tre sulla pagina facebook di sensei awakening ufficiale prima domanda quando sarà disponibile la skin del contest di gemini canon è vero perché ormai da parecchi mesi è finito quel contest e mi la la tencente la gt arcade chiedeva prima ai propri utenti di disegnare una skin per gemini canon e poi dopo averne selezionate alcune faceva votare dagli altri utenti quelli che era quella che sarebbe stata la skin preferita e avrebbero dovuto metterla poi nel gioco al momento non si sa ancora nulla di quella skin un coloro ci dicono che la skin sarà online a partire dal 27 gennaio quindi non mercoledì prossimo ma l'altro e sarà ottenibile tramite delle attività gratuite o almeno qua almeno questo poi seconda domanda spero che incrementerete il quick rebirth la funzione di quick rebirth da 5 a 6 stelle a me risulta che già adesso si afferma tipo a 4 o almeno io un quick rebirth a 5 stelle non sono ancora riuscito a fare anche se è una vita che effettivamente non la utilizzo quella funzione quindi potrei potrei sbagliarmi però appoggio appoggio la proposta di questo di questo ragazzo sarebbe ora di poter usare una funzione max ami direttamente il cavaliere senza farmi perdere 20 minuti per nulla considereremo la possibilità di introdurre questa funzione bravi bravi poi l'ultima domanda quindi nulla in merito appunto quello che ho appena detto speriamo che la modalità a energia infinita possa essere aggiunta nel campo d'onore come gameplay a lungo termine era carina effettivamente quella modalità devo dire la verità mi sono abbastanza divertito non fosse per il fatto che la gente per arrivare alle 100 win a un certo punto schierava tutti tutte squadre young saint quindi i saint in versione bambini che hanno questa abilità bellissima che io non sapevo che poi ho utilizzato anch'io schierandoli tutti insieme il gioco quitta da solo c'è proprio vedi loro che scappano automaticamente dalla partita vinta l'avversario bellissima fantastica questa cosa ad ogni modo la tencent dice che è già in corso un piano di sviluppo per poterla per poterla includere bene quindi però nulla in merito appunto alla l'eventuale stabilità o meno del del doppio ban in immortal c'è c'è scritto nuova modalità gratid duel sente che raggiungeranno in mortal 3 avranno la modalità doppio ban ma non riesco a capire se sarà stabile da qui all'eternità o sarà a tempo vabbè pace chi vivrà vedrà in questo senso andiamo a vedere gli aggiornamenti o meglio le missioni disponibili appunto da quest'oggi vabbè continua naturalmente la campagna aiutiamo i giovani cavalieri che sarà disponibile ancora per una settimana dieci giorni no meno di dieci giorni nove giorni circa perché si conclude al 22 al 22 di gennaio risveglia l'armatura e effetta l'accesso per ottenere ricompense missioni legate vabbè all'introduzione di un nuovo reperclot nella fattispecie quello di krishna con l'accesso giornaliero otteniamo uno dei suoi scrigni e raggiungendo 80 punti di attività giornaliere otteniamo ricalco e polvere generali degli abissi risvegliati missioni legate appunto al reperclot di krishna aprendo vabbè un tot di scrigni illimitato questo è il quindicesimo sente che mettono quindi aprendo un tot di di scrigni a lui dedicato avremo questo genere di ricompense ce n'è anche una che io ho già ottenuto che si ottiene questa giornaliera aprendo tre scrigni rari cioè quelli dorati classici ogni giorno ricarica ottieni tome abilità quello per il quale appunto mi sono fatto una sana risata prima in realtà se noi andiamo a vedere poi magari daremo anche un'occhiata a quanto effettivamente costano i tome abilità all'interno di questo gioco tutto sommato questa offerta di per sé non è male ci viene chiesto di ricaricare per cinque giorni quindi non dobbiamo necessariamente fare tutte le ricariche per tutta la settimana cinque giorni equivalgono a dieci dollari che vabbè da noi tradurranno probabilmente dieci euro e ci danno i lucchettini per per il blocco raffinazione del cosmo ci danno la camelia bianca per il tempio fuoco fuoco gelido e ci danno una gemma advance ogni giorno più appunto dicevo dopo cinque giorni un tomo un tomo abilità a dieci euro in genere un tomo abilità ripeto poi andremo a vederlo dovrebbe costare attorno ai 30 euro per rendervi per rendere l'idea però vabbè queste sono sempre cose a pagamento ognuno poi si rigestisce come meglio crede scambio tempo limitato il mercato di scambio con che si per ottenere materiali vari tramite gemme tramite scambio di gemme advance e la luce del tempio stellare io quello che consiglio sempre in questo caso appunto di prendere il tomo fatto io nella fattispecie è vero che costa 40 gemme ma ripeto sono dai 10 a 30 euro a tomo quindi forse è meglio a questo punto lasciarci giù le 40 gemme che se non altro in gaming in qualche modo posso recuperarle e soprattutto di fare lo scambio della polvere di cristallo di vino viola che è quella che serve per potenziare le armature riparate dei saint ss vabbè nella fattispecie sono solo ade e nettuno ma come abbiamo visto settimana scorsa questo tipo di scambio ormai non verrà più ripresentato ogni settimana alternerà una settimana sì e una settimana no quindi le possibilità di ottenere questi polveri sono veramente veramente ridotte questa ragazzi vi consiglio veramente di sfruttarla fino a quando fino a quando c'è ecco apro e chiudo una parentesi veloce questa parte la sto registrando in post produzione quindi se vedete che non c'è continuità tra quello che stavo dicendo prima quello che sto dicendo adesso quello che sentirete dopo è per quel motivo vi ho accennato al fatto che poi saremmo andate a vedere effettivamente quanto costa il mercato ecco quest'oggi si è sbloccato tra le altre cose l'emporio misterioso io ho tenuto il 60 per cento di sconto ma credo che ci sia di meglio penso che si possa ottenere fino al 70 per cento ad ogni modo se noi andiamo a vedere i tomi per il frammenti per i tomi abilità vediamo che quattro frammenti costano quattro dollari praticamente quindi un euro a frammento un tomo sono un dollaro a frammento ma vabbè da noi poi alla fine viene tradotto un euro quindi tanto vale dire un euro i frammenti che servono per fare un tomo intero sono 30 quindi come vi dicevo prima sono tipo e sono in sconto in questo caso in questo caso sono in sconto sarebbero tipo 30 euro per un tomo negozio riscatti questo è una vita e mezzo invece che non si vedeva e non è non è male in tutto sommato è un negozio di scambio dove in questo caso il materiale da scambiare sono i vostri tomi viola ci sono sia tomi viola da due stelle che tomi viola cioè potrete utilizzare sia tomi viola da due stelle che tomi viola da tre stelle e qua vabbè ognuno sceglie quello il materiale che preferisce laddove più carente tutti nessuno quello che volete nebulosa infinita come sempre è il rimborso il rimborso chiamiamolo rimborso le ricompense che il gioco ci dà ad ogni tot di evocazioni con con le gemme advance spesa totale questo in questo caso si sono rimborsi tra virgolette per per l'utilizzo di coupon missioni per i prossimi tre giorni quindi dal 13 al 16 gennaio sono relative all'epic ruin alle rovine antiche quindi completa il settimo piano o superiore di antiche rovine in solitaria almeno una volta e vale anche con la funzione automatica e quello che sto facendo adesso l'ho fatto proprio per provare ho lanciato una funzione automatica prima di iniziare a registrare il video vedo che mi hanno contato quello che invece dovrete fare a mano è completare le rovine epiche cinque volte in gruppo ogni giorno quindi qua dovrete per forza accedere a un party e livellare un saint di cinque livelli per per ogni giorno ripeto queste sono le missioni dei prossimi tre giorni non abbiamo nuovi saint non devo andare a pullare per per andromeda possiamo però andare a vedere come vi dicevo prima come hanno tanto non ho capito perché sono i tomi devo rimettermi sui saint s dicevo come hanno potenziato krishna con la sua armatura con il suo repercloth dovrei trovarlo abbastanza agevolmente perché gli avevo messo una skin che era più difficile da non vedere che da vedere eccolo qua che bellerrimo con questa skin allora armatura vediamo com'è allora nella sua abilità tra virgolette normale il sigillo del del sacra del del sacra niente ho riattivato la modalità luca giurato sigillo del sacra scintillante fa molto naruto quando si lancia grande luce se il bersaglio al sigillo della fiamma che poi lo hanno ritradotto come sigillo del come sigillo del bagliore quindi è lo stesso crisore al 38 per cento più status it o precisione alterazione meglio dirlo in italiano di possibilità di occludere permanentemente i sette chakra del bersaglio non può essere purificato che cavolo vuol dire occludere i sette chakra del bersaglio vuol dire che praticamente gli disattiva il suo cosmo leggendario quello centrale sapete che il cosmo leggendario il corpo il cosmo centrale ha delle funzioni particolari ecco lui in questo caso lo disattiva sigillo del chakra scintillante risvegliato quando crisore lancia grande luce se al bersaglio sono stati applicati applicati i sigilli del bagliore come dicevo prima dovrebbe essere la stessa roba del sigillo della fiamma non mi sembra che abbia due tipi di sigilli diversi però potrei sbagliare c'è il 65 per cento di possibilità più status it di bloccare in modo permanente i sette chakra del bersaglio e fino a qua praticamente nulla di diverso se non per il fatto che già a livello 1 passi dal 38 per cento al 65 per cento che non è proprio poco a livello 1 ripeto se il cosmo del bersaglio viene inibito quindi sette chakra bloccati ed effetto rottura allora riduce del 10 per cento l'attacco fisico l'attacco cosmico e la velocità del bersaglio non è cumulabile per fortuna altrimenti ad ogni turno a togliergli il 10 per cento di tutte queste cose dopo tipo tre turni tra un po giocate contro un team di bambini ripeto non è cumulabile però non può essere purificato ed è irreversibile cioè una volta che il cosmo è rotto il cosmo è rotto il tuo 10 per cento di debuff all'attacco fisico all'attacco cosmico e alla velocità del personaggio te lo becchi fino alla fine della partita ora bisogna vedere più che altro bisogna capire bene comunque se vale la pena giocarlo se non vale la pena giocarlo in quale team specifico sarebbe meglio utilizzarlo se funziona se non funziona su queste cose ragazzi lo sapete sono molto meglio i ragazzi dello zodiac rispetto a me quindi io non metto bocca non ho voce in capitolo di cose che non mi competono e direi che questo è assolutamente è assolutamente il caso e niente dai dovrei aver già detto tutto è stato un aggiornamento abbastanza semplice nuovi saint da analizzare non ce ne sono mi avete chiesto nell'ultima settimana ai bardi ma allora a questo punto quale sarà il primo nuovo saint effettivo che metteranno nel gioco ragazzi rispetto al server cinese mancano due personaggi a noi uno è shijima della vergine quindi il cavaliere della vergine di sensei a next dimension e l'altro è milo con l'armatura divina milo con l'armatura divina per come era stato presentato sembrava effettivamente un drago e l'hanno già nerfato è già stato nerfato e tra parentesi l'hanno nerfato di brutto ma veramente di brutto l'hanno nerfato ora bisogna capire se quando arriverà da noi arriverà questa versione nerfata arriverà la prima versione arriverà una via di mezzo sapete che anche con garuda non mi ricordo se era con garuda o con balron vabbè comunque uno dei due noi era già arrivata la versione tra virgolette quella più buona bisogna vedere cosa succederà poi con milo ad ogni modo se dovessero dicevo rispettare l'ordine d'uscita del server cinese il primo dovrebbe essere il cavaliere della vergine di sensei a next dimension che tra l'altro pare essere un bel personaggino resta da capire se arriverà già questo mese direi abbastanza probabile se ce lo metteranno magari a cavallo del prossimo fortune cat oggettivamente è difficilotto vedremo vedremo chi vivrà vedrà ad ogni modo ragazzi per oggi era tutto come sempre spero che il video nella sua infinita semplicità vi sia comunque stato utile pace belli alla prossima grazie a tutti